Dopo due stop forzati a causa dell'impennata dei contagi, gli ambulanti accompagnati dalle associazioni di categoria e l'amministrazione tornano a confrontarsi per programmare una immediata riapertura del mercato settimanale, già a partire da martedì prossimo, 18 gennaio. Quella di oggi doveva essere una protesta per i due giorni di mercato persi e per la merce andata male, ma dopo un confronto con il questore Reciferi si è optato per la via del dialogo, come conferma il presidente di Confesercenti Rocco Pardo. Abbiamo scelto la linea del dialogo, quindi evitare l'ennesima brutta figura per una città come Gela di fare una manifestazione quando ci sono i presupposti per sistemare le cose. L'amministrazione ha approvato la nostra richiesta, la nostra proposta per ritornare immediatamente a lavorare, condigentando l'area mercatale e invitando così tutti i cittadini a rispettare le regole che sono quelle della mascherina FFP2 e del Green Pass per entrare nell'area mercatale. Quindi l'amministrazione ora si sta organizzando con le associazioni per dare questo servizio. L'intenzione dunque è quella di ripartire in sicurezza pandemia e contagi permettendo, attraverso il potenziamento dei sistemi di contingentamento con l'aiuto delle associazioni di protezione civile che controlleranno gli accessi e verificheranno possesso e validità del Super Green Pass degli eventuali avventori. L'amministrazione comunale per cercare di mettere in gambo tutte quelle azioni a favorire il decrescere del contagio ha provveduto con ordinanze a chiudere questo mercato. Oggi è stata fatta questa riunione proprio per ripartire il prossimo martedì, ovviamente colore di zona permettendo, con tutti i provvedimenti del caso. Soprattutto tengo a precisare che anche il mercato settimanale e il mercato rionale si potrà accedere solo ed esclusivamente con il Super Green Pass. Abbiamo chiesto un sacrificio a malincuore di incontrarci e riuscire a organizzare il mercato secondo le normative vigenti, secondo la possibilità anche di cercare la collaborazione delle associazioni di volontariato che oggi ce l'hanno data per poter contingentare il mercato settimanale. Era un incontro che dovevamo fare forse la settimana scorsa, ma i numeri erano altissimi. Loro lo hanno capito, infatti io ringrazio anche il rappresentante sindacale, ringrazio la categoria che ha compreso lo stato di necessità della città, lo stato di emergenza che vive alla città. Ci siamo dati appuntamento per il prossimo martedì con un'organizzazione sicuramente migliore. Qualora in questa settimana i contagi dovessero rimanere alti o se andasse verso una nuova colorazione con maggiori restrizioni, gli ambulanti chiedono però all'amministrazione provvedimenti che arrivino per tempo e non a ridosso della data di riapertura del mercato come avvenuto nelle scorse settimane. Non possiamo ricevere sempre un giorno prima un'ordinanza perché è gente che arriva da fuori, è gente che si organizza a caricare furgoni per venire a fare un mercato che trattasi di Gela, Caltanissetto o altre città e mi sembra corretto dare quanto meno un preavviso di 48 ore. L'obiettivo adesso è tornare a montare le bancarelle già martedì prossimo. Nel rispetto alle regole sì.